A chi dice che siamo solo il governo degli annunci vorrei rispondere che in soli 70 giorni la riforma del lavoro sta andando avanti, la riforma del Senato sta andando avanti, la riforma della legge elettorale sta andando avanti e che 10 milioni di italiani si troveranno 80 euro in più in busta paga a fine mese. Beh, insomma, noi vogliamo cambiare davvero il Paese. Lasciamo ad altri gli insulti, le critiche che alla fine nascondono solo la voglia di lasciare tutto com'è.